Eccoci allora con Bianca Lapini, benvenuta. Grazie. Nuova schiacciatrice dell'EPM BAM Mondovì, tu arrivi da un'esperienza, una pluri-esperienza in A1 in cui nell'ultima stagione hai ricoperto anche il ruolo di libero. Quale sarà allora il tuo apporto quest'anno nella società moregalese? Ciao a tutti, sicuramente quello di riprendere il fondamentale dell'attacco ma sicuramente di dare una mano nel mio punto di forza che è il bagger dato che anche quest'anno l'ho rinforzato molto e niente, spero di vedere tanti tifosi in palestra, tanto calore e sono convinta che con le mie compagne faremo un gran lavoro e siamo molto cariche. Mondovì una società che abbiamo sentito anche le parole del presidente Fissolo punta a punti in alto, punta a fare una stagione di vertice. Quali sono le tue aspettative personali allora? Io credo che lavoreremo molto bene in palestra per raggiungere i massimi obiettivi per cercare di fare il miglior campionato possibile e spero appunto che ci divertiremo perché è la cosa più importante e porteremo soddisfazione in questa città. Conoscevi già qualcuna delle tue compagne? Comunque oggi primo incontro ufficiale stagionale, anche quello con coach Gazzotti. No, in realtà non conoscevo nessuno, però stiamo socializzando molto mi sembrano tutte persone molto carine, molto serie e professionali quindi sono molto contenta. Grazie mille allora e buona stagione! Grazie a voi, ciao!